ciao benvenuti sul nostro canale in questo video vi mostreremo il funzionamento dell'ipm la nostra nuova applicazione pensata per le saldatrici laser l'obiettivo di elettro laser è sempre stata la continua ricerca di innovazione ed è grazie a questo stimolo che abbiamo sviluppato l'ipm acronimo di integrated parameters inside microsoft che ci dà la possibilità di visualizzare i parametri all'interno del microscopio in formato digitale il grande vantaggio che questa tecnologia apporta è la capacità di modificare i parametri evitando di interrompere la lavorazione così da avere costantemente la situazione sotto controllo inoltre abbiamo sostituito l'allineamento meccanico del crocino a un sistema digitalizzato rendendo così la regolazione più semplice e veloce per rimanere aggiornati sulle novità di elettro laser mi invito a iscrivervi al nostro canale youtube e visitare il sito web grazie per la visione e ci vediamo il prossimo video